Biciclette elettriche, scooter con i portavivande vuoti, tutti parcheggiati in piazza Mazzini. La mobilitazione dei rider spegne i motori dei mezzi e mette in pausa le consegne per protestare dopo la morte del 31enne pakistano, morto mentre stava effettuando le consegne, travolto da un'auto a Limena. Quest'ennesima morte sul lavoro riaccende le polemiche sulla professione dei rider, sottopagati, sfruttati, considerati a tutti gli effetti, lavoratori autonomi. Qui siamo in una condizione di fortissimo sfruttamento, lo si vede, è un lavoro che viene svolto non solo ma da migranti che chiaramente sappiamo insomma le condizioni di disagio che vivono, hanno tra virgolette riconosciuto un importo molto basso di 3 euro all'ora, noi quando sono cifre di questo tipo le associamo tra virgolette a situazioni di caporalato. Pagati pochi euro l'ora, niente TFR, niente ferie o malattie, ovviamente la responsabilità personale dal mezzo turni di lavoro e ritmi frenetici per aumentare le consegne. La paga base per Glovo per una consegna è di 3 euro e poi ci sono 37 centesimi di rimborso chilometrico per ogni consegna e quindi la richiesta è appunto di passare da 3 euro a 3,50 euro la consegna e di 37 centesimi e 50 centesimi la consegna, inoltre si chiede che ci sia un'indennità di attesa perché siccome sono lavoratori autonomi concettualmente lavorano a Cotimo se fossero dei dipendenti e quindi più loro aspettano meno consegne fanno quindi meno soldi percepiscono e poi chiediamo un bonus che Glovo non dà a differenza di Deliveroo un bonus pioggia. In queste ore la trattativa è stata riaperta con le piattaforme di consegne e dopo un primo niente di fatto si sono riaccese le speranze con un nuovo incontro. I lavoratori però sono decisi nelle loro intenzioni se non ci saranno garanzie di tutele. Loro sono sicuri di continuare anche una settimana con questo sciopero quindi noi speriamo di ottenere delle risposte concrete da Glovo nel minore tempo possibile. Solidarietà ai lavoratori è stata dimostrata anche dal consigliere comunale del PD Pietro Beano. Come istituzioni locali cosa possiamo fare? Visto che ogni lavoratore, ogni lavoratrice ha diritto di coalizzarsi e chiedere diritto alla giusta retribuzione diritto allo sciopero, diritto al lavoro che sono diritti costituzionali noi quello che cerchiamo di fare è sostenerli affinché possano avere un dialogo un confronto nelle forme che sceglieranno loro attraverso i sindacati che sceglieranno con il loro datore di lavoro.